Allora siamo alla sala Umberto con un abitué del nostro karaoke cioè ha avuto il coraggio di fare il Metallica a Radio Rock Max Pagliella E però i capelli come farebbe un metallaro adesso Max? No non devo cominciare adesso? No non cominci Eh metallaro senza capelli che devi fare? Pochi ma buoni Vado? Aspetta aspetta C'è un intro lunghissimo Sta per cominciare Eccolo eccolo Vado Sta scorrendo il testo quando si evidenzia quando diventa colorato Vediamo come te la capi Say your prayers little one Take my hand We're off to never never land Max va bene così perché te la sei guadagnata ma secondo te la sala Umberto l'hanno mai suonato in Metallica? Ma mai nessuno ha il coraggio di suonare in Metallica la sala Umberto soltanto io Yeah E sei in scena fino a quando? Fino al primo marzo Fino al primo marzo Ho cominciato il 17 e finisco il primo marzo con sono d'accordo su tutto Soprattutto sui Metallica Yeah Ma li farai Metallica? Assolutamente no Ok Facci un saluto rock a Radio Rock da Metallica Yeah 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 Yeah